In una fase di aumento di massa muscolare c'è un'arma segreta che se si vuole far durare una fase di massa abbastanza per riuscire a mettere il massimo quantitativo di massa muscolare, sicuramente è quantomeno da valutare. Ogni anno faccio un video inerente gli integratori per l'aumento della massa muscolare, è già uscito. Ma noi sappiamo che chiaramente in un mese di fase di massa muscolare non riusciremo a mettere tonnellate e tonnellate di muscolo. E se invece vogliamo riuscire a mettere i massimi risultati, è probabilmente necessario andare ad optare per una fase di massa che duri un po' di mesi. E ecco, è possibile che con il passare delle settimane, con il passare dei mesi, il rapporto fra quanta massa muscolare mettiamo e quanto grasso, chiaramente vogliamo minimizzare ma comunque finisce per accumulare, si vada a sbilanciare, magari tendendo più ad accumulare più grasso rispetto che a massa muscolare. O quantomeno, magari il rapporto rimane buono, quindi comunque metti molta più massa muscolare rispetto al grasso, che chiaramente possiamo minimizzare. Non sarà impossibile renderlo zero. E ecco, e ciò nonostante è possibile che a un certo punto, veramente quando mangiamo i carboidrati, noi ci sentiamo veramente stanchi, ci sentiamo veramente letargici. Non ci sentiamo che una volta mangiati i carboidrati, cavolo voglio andare a sollevare subito i pesi. No, hai bisogno magari di riposarti un attimo. Ecco, questo è un segnale che potresti non avere una buona sensibilità insulinica, ovvero che la tua sensibilità insulinica sia peggiorata. Ora, prima di andare a parlare, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale, sono qua da lontano 2016. E da lontano 2016 a questa parte ho sempre parlato di integrazione senza mai fare marchette a un brand integrazione. Quindi non ho mai promosso integratori con il codicino sconto vicinino di un brand, perché altrimenti non mi avrebbe pagato lo stipendio. Non ho mai parlato bene di composto di integrazione perché un brand mi pagasse lo stipendio, anche senza codicini sconto, perché tante persone che magari segui più in vista, magari sui vari social network, loro magari non ti dicono nemmeno il codicino sconto. Perché? Perché vengono pagati uno stipendio fisso. Ecco, su questo canale non funziona in questo modo, noi ci vediamo ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare nell'integrazione di tutti i giorni. E ecco, in particolar modo in questo video qua andremo a parlare della berberina. Berberina, come dicevo, che vado ad affrontare ogni anno, che ci può dare diversi benefici di cui adesso non andremo a parlare, e che molto spesso va a creare un po' un problema da un punto di vista di se andarla ad utilizzare da solo, se non andarla ad utilizzare da solo. Non ti preoccupare, in questo video ti vado a spiegare tutto. Ora, iniziamo dicendo che molto spesso noi troviamo la berberina nei composti bruciagrassi. Quindi tu vai a prenderti il tuo composto bruciagrassi, te lo vai a leggere e trovi all'interno la berberina. Da un punto di vista scientifico, è giusto che io te lo vada a chiarire, la berberina non ha dimostrazioni che ci permetta di perdere grasso. Attenzione, c'è qualche materiale scientifico, ma non così tanto interessante, da un punto di vista di persone che abbiano problemi metabolici. E allora in quel caso, per esempio su soggetti diabetici, ecco che in quel caso potrebbe andare ad aiutare, ma anche in quel caso gli studi sono veramente pochi, e quindi ad oggi possiamo dire che a 360 gradi per la perdita di grasso sia inconcludente. Quindi se lo trovi all'interno di un composto bruciagrassi, probabilmente non è neanche al dosaggio giusto, e probabilmente non ti serva una mazza. Quindi questo è un primo indicatore, così se ti vai ad analizzare un composto che magari è di un brand, che te lo vende come avanzato, sei già che magari ha fatto una porcata. Punto numero due, che è il motivo invece per cui, tra l'altro se non ti sei ancora iscritto, se ti iscrivi, così almeno io tutti i giorni faccio un video nuovo, e tu ti vai ad implementare l'integrazione veramente come si deve, quest'anno ottimizzi i risultati, ottieni chiaramente i massimi. Ecco, secondo beneficio della berberina, che è proprio quello per cui ci interessa, ovvero l'aspetto di sensibilità insulinica, ovvero migliorare il nostro rapporto che il corpo, ok, ha con i carboidrati. E attenzione, noi inizialmente, quando siamo all'inizio di una fase di massa muscolare, noi tolleriamo bene i carboidrati e non ne abbiamo bisogno, perché ecco, questo è un concetto sbagliato del dire vado ad utilizzare un integratore sempre se non ne ho bisogno. No, lo utilizzo all'occorrenza e in questo caso la berberina non cambia. Quindi noi, all'inizio di una fase di massa muscolare, non lo andiamo ad utilizzare, perché sicuramente avremo, se andiamo a fare delle analisi del sangue, ce le possiamo fare anche a caso, comunque te le vai a fare dove preferisci, in qualsiasi laboratorio, anche se da quando ho scoperto che, per esempio, qui negli Emirati mi vengono a fare le analisi a casa, bellissimo. Comunque, a parte questo, la tua sensibilità e i tuoi livelli di zuccheri nel sangue a digiuno all'inizio di una fase di massa saranno buoni. Con il passare dei mesi, andando ad ammangiare magari sempre progressivamente più calorie, ecco che a un certo punto ti sentirai non tanto performante, ti sentirai che il pump in palestra, anche se non è il nostro obiettivo, ma è naturale che comunque una persona si alleni e abbia il pump, veda che non ricepisco bene i nutrienti. Ecco che a quel punto può aver senso introdurre un integratore di berberina, un integratore di berberina che ha proprio l'obiettivo di ripristinare, anche in modo importante, addirittura sembrerebbe, a livello di alcuni farmaci come la metformina, i propri livelli iniziali o quantomeno portarli nella norma. Finalmente, infatti, noi non vorremmo superare il livello di 100 nell'analisi del sangue, quindi se ce l'abbiamo sotto non abbiamo bisogno, se lo andiamo a superare o siamo prossimi, potrebbe valer la pena andare ad utilizzare la berberina. Berberina che va ad agire in molteplici modi. Prima però di andando a parlare, ricordo che se una volta finito di vedere il video vorrei smettere di buttare via soldi in integratori inutili, io ho una guida, ok, chiamata la rivoluzione sull'integrazione, che tu potresti dire, ok, è un'altra guida sull'integrazione. No, una guida di questo tipo qua tu non l'hai mai trovata. Perché? Adesso ti spiego. È una guida pratica, quindi zero teoria. Non è un manuale che ti sfracassa, passatemi il termine e le palle, con tutta la teoria che ti metti lì, non hai tempo, tu sei impegnato, magari è la famiglia, devi lavorare, non c'è questa roba qua. Ti va a dare tutte le istruzioni pronte all'utilizzo di tutti i mix da andare ad utilizzare. Quindi, vuoi mettere massa muscolare? C'è il capitolo sulla massa che ti dice, usa questo, questo e questo. Vuoi perdere grasso? Questo, questo e questo. Ecco però, la cosa in più è che questa guida qua, io te la aggiorno una volta al mese, perché la guida è digitale. In questo modo io ti do gli aggiornamenti gratuiti. Io lo so che molte persone magari ti vendono il libro sull'integrazione, che poi magari non si basa nemmeno sugli studi scientifici, ma poi quel libro lì, dopo un mese, non è più aggiornato, perché gli studi cambiano e quindi tu hai bisogno di una guida in continuo aggiornamento e io te la vado a dare. Ti costa meno di un integratore truffa e tu hai il mio supporto a vita per tutte le domande del caso. In più, altra cosa eccezionale, ti vado a fornire una lista con tutte le marche di integrazione che io vado ad analizzare. Ci sono brand per tutte le fasce di spesa, quindi sia che tu possa spendere di più che di meno, anche questo aggiornato a vita. Quindi io smetterai di buttare via soldi. La pagina te la lascio giù in descrizione e nei commenti. Ora, come dicevo, la berberina agisce in molteplici modi. Diminuisce la resistenza insulinica, aumenta la glicolisi, riduce la produzione di zuccheri da parte del fegato, rallenta la scomposizione dei carboidrati e aumenta i batteri buoni all'interno dell'intestino. E tutto questo per migliorare la nostra sensibilità insulinica e quindi il rapporto che il nostro corpo ha con i carboidrati, in modo tale che i carboidrati che vengono dati vengano utilizzati meglio per poi avere delle prestazioni migliori in palestra per performare meglio e potenzialmente permettere più massa muscolare. Non finiscono però qui i benefici, nel senso che si è visto che potrebbe andare anche a migliorare il colesterolo cattivo, nello specifico l'LDL. E in particolar modo, noi abbiamo già visto nei video passati che per esempio abbiamo integratori come il riso rosso fermentato, che è il più potente di tutti, ma anche l'aglio possa andarci ad aiutare. Ma ecco, così come l'aglio agisce in modo differente dal riso rosso fermentato, anche la berberina reagisce in modo differente dal riso rosso fermentato e quindi possono essere complementari o può essere utilizzata eventualmente come primo punto. Magari uno ha da migliorare la sensibilità insulinica, magari è anche un ex obeso e quindi ha già dei problemi di resistenza insulinica, utilizza la berberina e se si ritrovasse ad avere anche il colesterolo cattivo alto, potrebbe andare ad aiutarsi anche con questo integratore qua. Oltre a ciò, potrebbe anche andare ad aiutare, andando ad agire sui geni, a prevenire o a rendere meno problematiche condizioni croniche che chiaramente impattano proprio lo stile di vita che una persona si ritrova ad avere quotidianamente. Quindi questa è un'altra cosa extra. Però ecco, il motivo principale per cui una persona potrebbe essere interessata alla berberina è proprio sicuramente l'aspetto di sensibilità insulinica, quindi continuare a rendere il corpo più performante possibile. Chiaramente ricordiamoci una cosa, che il deficit calorico è il miglior modo che una persona possa andare ad optare per ripristinare la sensibilità insulinica. Nel senso che se noi ci facciamo la cosiddetta mini-cut o mini-dieta, dove magari ci siamo fatti sei mesi di massa muscolare, quindi in surplus calorico, spingendo e tutto quanto, magari due, tre, quattro settimane, dove finisci per perdere un chilo a settimana, ti butti giù tre, quattro chili, gli addominali magari si riniziano a vedere, e quindi a quel punto tu puoi riniziare a mettere massa muscolare, e quindi ritorni poi immediatamente in surplus calorico. Oppure magari ci sono persone che fanno utilizzo di SARMS o steroidi, che allora anche a quel punto ci sono alcuni composti che vanno a peggiorare la sensibilità insulinica, e quindi la berberina è sicuramente il punto di inizio per andare a migliorare la situazione. E attenzione, così come noi abbiamo visto per quanto riguarda i composti antiossidanti, dove praticamente c'è veramente tanta confusione, ogni mese si parla di composti antiossidanti nuovi, che se le persone dicono, ah il più potente e tutto quanto, senza dimostrazioni scientifiche, noi abbiamo visto che benché si parli di astaxantina, moringa, se ne parla di tutti, ah la, noi abbiamo visto che i più provati, i più, quelli dove abbiamo più materiale scientifico, sono la vitamina C, e l'anacetilcisteina, se voglio andarmi a prendere un antiossidante, prendo questi. Idem, per quanto riguarda la sensibilità insulinica, si può parlare, si può trovare articoli, video, sui vari social network, di persone che, chiaramente per cavalcare l'onda, dicono, ah il nuovo composto GDA, che praticamente sarebbe poi quello che ci permette di migliorare la sensibilità insulinica, glute disposal agent, ecco, praticamente, anche in questo caso qua, è importante sapere che la berberina è il composto principale, quindi il composto su cui abbiamo più materiale scientifico, sappiamo funzionare dannatamente bene, quindi piuttosto che andarti a comprare 6.000 composti GDA, di cui non hai bisogno, così come non hai bisogno di andarti a prendere 60.000 integratori antiossidanti, non hai neanche bisogno di andarti a prendere 60.000 composti GDA, e quindi ti prendi la berberina, te la prendi nel modo giusto, come adesso ti vado a spiegare se è a posto, poi nel peggiore dei casi, dove la berberina non si è riuscita a fare, ma è veramente raro, l'effetto che volevi, magari possiamo valutare di aggiungere altro. Ora, come la andiamo a prendere sta benedetta berberina? La vogliamo andare a prendere in qualsiasi passo che contenga carboidrati, che non sia il post-workout, o i passi all'interno delle 5-6 ore dopo il workout, quindi potrebbe essere il post-workout e il post-post-workout. Ecco, in questa fascia oraria qui non la vogliamo andare a prendere, anche perché la berberina potrebbe avere un effetto catabolico, quindi bloccare l'anabolismo. Siccome il momento dopo l'allenamento è il momento migliore, più anabolico che noi possiamo andare ad avere, tendenzialmente non vogliamo andare ad avere problemi. Oltretutto, il periodo post-allenamento è proprio il periodo in cui, diciamo, il corpo riesce a recepire meglio i nutrienti carboidrati, e quindi non ce n'è bisogno di andare a prendere nelle 5-6 ore dopo l'allenamento. Però, se nel resto del giorno hai dei pasti contenenti tanti carboidrati, puoi andare a prendere la berberina. Per esempio, magari quando ti alleni alle 6 di pomeriggio, ti fai una colazione ricca di carboidrati, ecco che la utilizzi a colazione. Anche a pranzo utilizzi tanti carboidrati, lo utilizzi anche in quel caso lì. Noi poi abbiamo visto che lì, in generale, vorremmo utilizzare la maggior parte dei carboidrati intorno all'allenamento. Però poi lo capisco, non tutti possono andare a seguire la strada ottimale, quindi comunque, utilizzano la strada ottimale per se stessi, quindi magari utilizzare i carboidrati non proprio intorno all'allenamento e quindi pre-intra e post-allenamento, ma magari lo utilizzano in altri momenti. E il dosaggio, in questo caso qua, va dai 300 ai 500 mg per 3, massimo 4 volte al giorno. Ora, non è necessario che tu lo vada a utilizzare 3-4 volte al giorno, potresti andare a utilizzare anche 2 volte al giorno. E idealmente vogliamo partire con il dosaggio più basso per singola assunzione, quindi 300 mg, ed eventualmente andare ad incrementare. Questo perché? Perché tendenzialmente è un integratore sicuro, che a meno che non si vada a superare i 3000 mg giornalieri, non va a dare problemi rilevanti da un punto di vista di salute. Però in alcuni soggetti, alti dosaggi, comunque magari 500 mg per singola assunzione, potrebbe andare a dare costipazione, gonfiore, diarrea, comunque disturbo gastrointestinale, quindi potrebbe aver senso partire con il dosaggio più basso, valutare, e poi eventualmente andare ad incrementare. Anche in questo caso qua, però una volta che è risolto, non è che lo devi continuamente andare a prendere la berberina, risolvi il problema, stoppi e poi lo inizia ad utilizzare all'occorrenza, perché come abbiamo detto, non ha neanche tutto sto vantaggio anabolico, quando lo andiamo a prendere, potrebbe avere dei vantaggi catabolici, e quindi ecco qui che ritorniamo al discorso delle persone che vogliono prendere. Tanti GDA tutti insieme. Sì, però attenzione. Fra l'altro, ricordiamoci che questo va ad abbassare i livelli di zuccheri nel sangue, quindi per chi fosse inclina ad avere problemi, bisogna prestarci attenzione, e bisogna prestare attenzione anche al fatto che la berberina può andare in contrasto con alcuni farmaci. Quindi, se sei una persona che assume farmaci, magari uno ne parla con il medico, io lo so adesso che i medici sono indietro come le palle dei cani. In questi giorni qua, in cui sto registrando un video, mi hanno mostrato un integratore promosso da un urologo, da un andrologo, da una ginecologa, e da un medico di base, e su quattro non hanno azzeccato un composto valido, io lo so, però quantomeno, almeno cercare online, ok? Cerchi. La berberina va in contrasto con questo farmaco che prendo, perché poi ognuno avrà la propria situazione, e comprende se lo può andare a prendere oppure no. Chiaramente, parlando con il medico, è buono come punto di inizio, però quantomeno se è uno sveglio. Ora, la berberina, però, è un composto che non ha un grande tasso di assorbimento, e quindi, se la vuoi andare ad assorbire al meglio, vorresti andare a prendere un composto di berberina che abbia all'interno la silimarina o la vitamina E. In questo modo qua sarà maggiormente assorbito. Quindi, li puoi andare a prendere singolarmente, quindi prendere un integratore di berberina, e per esempio un integratore di cardiomariano, che ci fornisce la silimarina, e andarle a prendere insieme, oppure puoi andare a prendere un integratore di vitamina E, separatamente, per esempio, ho il mio composto multivitaminico senza stronzate, che proprio in questo momento probabilmente sarà sold out, perché normalmente è sempre sold out, che ecco, contiene già la vitamina E, quindi magari se utilizzi un multivitaminico, fatto bene, non hai bisogno di andare a comprare una berberina specifica, perché ce l'hai già nel multivitaminico. Se però non ce l'hai, non utilizzi un multivitaminico, vuoi utilizzare solo la berberina, ecco, potrebbe aver senso andare a comprare una berberina con la vitamina E già all'interno, o con della silimarina già all'interno, in questo modo massimizzi l'assorbimento. Di nuovo, sentirei parlare di integratori come il cromo, integratori come l'inositolo, integratori come l'ala, integratori come la cannella, sono tutti integratori, che sì, possono darci un po' di effetti, ma rispetto alla berberina, sono sputi, sono nulla, quindi prima parti dalla berberina, di qualità, in modo tale da massimizzare l'assorbimento, come ci ho spiegato, con la silimarina e la vitamina E. valuti, lo fai per qualche settimana, i risultati sicuramente li avrai, se non dovessero essere quelli sperati, allora a quel punto magari puoi valutare, di implementare qualcos'altro, ma probabilmente non avrai bisogno, e quindi risparmiati i soldi, e utilizzi il dosaggio giusto, perché poi molto spesso nelle formulazioni, dove c'è tanta cozzaglia, poi alla fine non c'è il dosaggio giusto, io te l'ho detto, poi fai la scelta che vuoi. Ah, mi stavo quasi per dimenticare, bravo che sei arrivato fino a questo punto, che noi vogliamo andare a prendere la berberina, prima o durante il pasto, idealmente non la vogliamo andare a prendere dopo, se vogliamo massimizzare i benefici, e con questo veramente ti ho detto tutto. Io di nuovo ricordo, nella rivoluzione sull'integrazione, hai già tutto pronto, non devi più pensare a nulla, vuoi mettere massa muscolare, vuoi perdere grasso, utilizzi gli steroidi, non li utilizzi, utilizzi i SARMS, sei un natura, ci sono per tutti, uomo, donna, ventenne, quarantenne, sessantenne, ottantenne, ci sono integratori per te, prostata, libido, testosterone, estrogeni, c'è tutto, dormire meglio, lavorare con più energie, avere più energie, c'è tutto, vitamine, minerali, tutto, in più ti vado a fornire una lista, con tutti i composti, che io vado ad analizzare, in continuo aggiornamento, così tu non devi più stare a pensare a nulla, vai lì, vuoi la berberina di qualità, che abbia già all'interno la silimarina, lo trovi, fine, oggi lo compri, domani ti arriva, e inizia ad integrare nel modo giusto, vuoi della cretina di qualità, vuoi delle proteine di qualità, trovi tutto, è il mio supporto a vita, così tutte le domande, i dubbi, te li togli, e in più, se non hai nemmeno voglia di leggerti la guida, e mi dici, edo io però sono molto impegnato, non ho tempo di leggermi la guida, c'è il pacchetto personalizzato, dove vado a fare tutto io per te, ti faccio tutte le domande di cui ho bisogno, mi analizzo la tua situazione, se vuoi fare l'analisi del sangue, le fai, e ti vado a dire, analizzando gli studi scientifici, cosa sia meglio nella tua situazione, meglio di così, non si può, io la pagina te la lascio, giù nella descrizione, nei commenti, se hai delle domande, sui miei dubbi, su come funzionassero, se potessi fare per te, scrivi ad Alessandro, il mio assistente, a questo email qua, o a questo numero whatsapp qui, ti risponderà a tutte le domande del caso, noi come sempre, ci vediamo tutti i giorni all'una, sempre su questo canale, ciao a tutti, peace.